L'ho considerato come un figlioccio questo orologio, ci sono andato anche tutti i giorni di una settimana, oppure ogni settimana, oppure ogni 15 giorni, quando c'era bisogno. E questo perché avevo una scommessa con me stesso di far andare avanti un qualche cosa che in Italia non c'è di uguali prima, in Europa ce ne sono 4-5 orologi astronomici come questo. Ha curato per ben 28 anni l'orologio astronomico del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande con amore e sapienza. Si tratta di un gioiello della meccanica che dal 1552 scandisce il trascorrere del tempo ad Arezzo. Adesso Fausto Casi, fondatore del Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, va in pensione dal ruolo di temperatore del manufatto. Sono uno specialista sull'orologeria rinascimentale e l'orologio di Piazza Grande, che è un orologio del 1552, io volentieri mi mise a disposizione negli anni 90 e 1996 quando presi l'incarico della direzione dei lavori del progetto di restauro e di recupero di questo orologio che era fermo da 20 anni. E da allora io sono stato nominato tutti gli anni temperatore di questo orologio come l'elemento di riferimento per mantenerlo in funzione. e quindi c'è tutta questa storia che è durata fino a quest'anno, compiuto il ventottesimo anno e di gran lunga sono il temperatore più longevole che sia esistito dal 1552 in poi perché di solito chi era responsabile di un orologio di quel genere durava 5 anni, 10 anni, 15 al massimo. Io sono 28 quindi credo di aver creato un indice dei primati. Il passaggio di consegne nel Palazzo di Fraternita a raccogliere il testimone, la professoressa Berti.